Ciao a tutti ragazzi, oggi parlate di Photoshop, vediamo come colorare, anzi cambiare, il colore degli occhi ad una persona o ad un'immagine a nostra scelta. Per prima di tutto, duplichiamo il livello, quindi andiamo a trascinare su questa icona, qui in giù, e avremo lo sfondo copia. Selezionando sfondo copia, prendiamo il pannello, ok, poi lo diamo in una dimensione che vogliamo, che più ci ritiene opportuno, e faccio un po' di zoom, ecco questo qua, sono soltanto tutti i pixel bruttissimi, e attiviamo la maschera, che è qui giù, attiviamo, e coloriamo l'occhio. Ok, un attimo, ok, cosa facciamo? Disattiviamo, cliccando di nuovo su questa iconcina, e avremo questa selezione. Ora andiamo su selezione inversa, e ho fatto una selezione molto veloce, e facciamo immagine, regolazioni, attualità e saturazioni, e andiamo a scegliere il colore che vogliamo, vedete? Ehm, sembriamo più viola, o blu, o come vediamo, insomma. Ecco, ora CTRLD, CTRLD, ed ecco qua, che abbiamo modificato il colore degli altri, che non vado a vedere, come abbiamo modificato. Se poi vogliamo farci un po' di luce negli occhi, se è troppo oscura, vediamo lo strumento scherma, andiamo in dimensione piccola, in questo caso, per il 0%, e diamo le piccole fasce. Vedete? E questo è tutto. Spero di aver fatto cosa gradita, ci vediamo a questo nuovo tutorial. Ciao a tutti! Grazie! Grazie!